Tossina 5, Tessina e Kappa, 4,7,9, Francesca Marelli, Paceza 1,2,10, Silvia Scania, Rai Arca, Sperianza. E' partita questa finale qui, cento rosso a femminili. Il tempo per te è 95, 96, 1,3, 63. Questa mattina a Mare Sposico ha ottenuto il tempo limite, il tempo per te è la finale della stessa gara. Tanto siamo a 50 metri. Tessina e Kappa, la padova in autobus, è 85, è vero. Tessina e Kappa, Tessina e Kappa, Tessina e Kappa, Tessina e Kappa. Grazie